Comunque ci siamo qua, giriamo, però quando si parte si fa una prova proprio al massimo, poi al limite giù o sopra aspettate, riposatevi, quando si parte si fa una prova come si deve, come in gala, va bene? Ricognizione, controllate il terreno, magari c'è una buca, qualcosa, sapere, ok? Veniamo anche noi, ma intanto qua non c'è niente di spettacolare da vedere.